Nella sede dell'Ordine dei Farmacisti di Catanzaro è stata presentata durante una conferenza stampa la dodicesima cerimonia del Caduceo in programma sabato 8 febbraio al Teatro Politeama, su iniziativa dell'Ordine dei Farmacisti di Catanzaro in collaborazione con gli ordini di Crotone e Vibo Valencia. Verranno assegnati alcuni riconoscimenti, oltre che dare il benvenuto ai nuovi iscritti all'ordine. Tutto è pronto per la cerimonia del Caduceo che si svolgerà sabato 8 febbraio. Quali saranno le tematiche al centro della stessa? Sabato 8 febbraio, come al solito, come ogni anno del resto, ripetiamo la cerimonia del Caduceo. È una cerimonia per noi molto importante in quanto andiamo ad accogliere i nuovi iscritti all'albo e andiamo a premiare i farmacisti che hanno raggiunto i 40 anni di professione. È una cerimonia che riassume un po' tutto quello che è l'iter della nostra professione, che ha più di 2.500 anni, diciamo, la data precisa non si sa, ma che si è sempre contraddistinta per essere vicino alle esigenze dei cittadini. E lo facciamo in un clima completamente nuovo. Da poco tempo sta partendo la farmacia dei servizi, una farmacia che si differenzia da quella passata, in quanto diventa un terminale intelligenza del Servizio Sanitario Nazionale. La tematica è l'antibiotico a resistenza. È un tema abbastanza caldo, al netto di quelle che sono le ultime emergenze sanitarie relative al coronavirus, l'antibiotico a resistenza è una delle tematiche su cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il sistema sanitario europeo sta puntando parecchio perché è uno dei temi caldi nell'ambito della chemioterapia antibiotica. E si svolgerà con, innanzitutto, una parte in cui noi daremo il benvenuto, e ci tengo proprio a ribadire, che diamo il benvenuto ai nuovi iscritti, i ragazzi che credono in questa professione, che sono logicamente entusiasti, e qui noi vogliamo accoglierli nella nostra famiglia nel modo migliore. E allo stesso tempo, in contrapunto, diamo la medaglia agli iscritti ai 40 anni di iscrizione all'ordine dei farmacisti. Dal nostro punto di vista il contributo è abbastanza immediato e speriamo efficace, dare a questi ragazzi che si sono brillantemente segnalati per il loro percorso scolastico, quelli che sono i nostri strumenti fondamentali di conoscenza e di sapere, il vocabolario e l'Atlante geopolitico.